Bendy Hello Apple Alice Il vicino Non può essere vero Deve essere stato un brutto sogno O forse no Ciao a tutti ragazzi Sono Lorenzo e benvenuti Su Hello Bendy Hello Bendy ragazzi Un crossover tra Hello Neighbor Bendy the Ink Machine Ragazzi i due creatori hanno deciso di fare Questa pazza idea E adesso noi incontreremo Il nostro amato Bendy vicino Vicino Bendy Ho capito però Io voglio saltare ste cavolate Devo utile ad uccidere Bendy Allora Iniziamo Porca di quella miseria Porca di quella miseria Facciamo sta cosa Troviamo la chiave Dovrebbe essere da queste parti Mamma mia Cosa si deve fare Per andare ad uccidere Un cavolo di vicino Bendy Da ecco ti chiave Oh bravo Oh bravo 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 Posala Bravo Hanno cambiato un pochino Come si gioca A Hello Neighbor Però Cosa manca Ah Lascia l'appartamento Si però Uomo Con questa lentezza Te lo dico Morirai subito Morirai subito Oh Finalmente Eccoci qua Hello Bendy Guardate là Oh mio dio Oddio Bellissimo Che poi con questa Questa colorazione Così Alla Bendy De Ink Machine È stupendo Ma è stupendo Ma veramente Allora Ragazzi Bendy Ciao Bendy Ciao Bendy Oddio Troppo forte Troppo forte Troppo veramente Forte Cosa devo fare Open the door Open the door Si prende la chiave Si prende la chiave E si fa Open the door Mettiamo questo qua A quanto pare Adesso si tiene premuto Per andare a prendere Gli oggetti Ora Togli ste cose Poca miseria Che mi stai Sidiando Uno Due Ok Tre Quattro Adesso Cerca di aprire Finalmente Eccolo là Il nostro Bendy Che ci sta osservando Cosa sono Sti rumori Bruttissimi Ma è bruttissimo Tanto Lo sappiamo tutti Chi è Bendy Quello che c'è Detro la porta Ecco Non lo sapevo io Adesso ci ritroveremo Sbattuti fuori casa Tutta colpa di Bendy Tocca a me Io contro Bendy Aiuto Che cosa Oddio Che brutto Ma dai Non si capisce niente Non si vede niente Non si vede Il primo spavento Direi che me lo sono preso Anche Abbastanza bene Porca miseria Bendy 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 Ma state scherzando Cos'è Questa roba Perché me l'ho fatto così Oddio Oh raga Ma vi immaginate Se al posto Delle colle Mi tira l'inchiostro No davvero Ma io voglio vedere Se c'è l'inchiostro No devo vederla Questa Questa la devo vedere Ragazzi Fatemela vedere Vi prego Nessuno sa che sono qua Nessuno sa che sono qua No ancora le colle Ok Così dovrebbe essere Così dovrebbe essere Acceso Devo prendere la carta Che c'è dentro Porca miseria Via 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 Che brutto Sto gioco Già Già non mi bastava E non è Mi bastava pure Pensi Insieme all'one Bendy Stai scherzando Nessuno sa niente Nessuno sa niente Grande 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 è tutto giallo è tutto giallo ecco il vicino uscito si però come ti senti male e non è bor maria santa parte la canzone bruttissima e il gioco esplode si è o bendy bendy mi è qua bendy 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 corri ti allena corretti io tiro qualcosa di sopra il tiro vicino vieni qua a scoppio ritardato ti sei fatto male però eh oddio quanto è figo non mi ha visto non mi ha visto non mi ha visto sì ok ci siamo ci siamo ci siamo è tutto giallo ma non ti preoccupare ma stavolta l'hanno veramente cambiato finalmente hanno fatto una cosa buona comunque ragazzi però tutto giallo non si può vedere è lo neighbor dai è tutto giallo chi se ne frega però almeno è meglio di prima è meglio di prima non vedere che può salire ah no non può salire però io vado sopra vado sopra vado sopra vado sopra via via cos'è ma cos'è non lo sapevo non lo sapevo il vicino può salire il vicino può salire no non me lo puoi fare questo no non me lo puoi non me lo puoi fare poca miseria poca miseria nooo no è inutile sto gioco inutile sto gioco inutile datemi la padella dalla padella con le uova strapazzate io tiro in testa vieni qua vicino del cavolo sto gioco inutile sto gioco inutile sto gioco inutile raga però ho visto una cosa la ci sono delle scale la ci sono delle scale la cosa c'è piano entra 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 non ti bugare entra entra non ti bugare entra entra non ti bugare però so dove andare però so dove andare non mi dovete rompere e adesso so cavoli e adesso posso essere al secondo pa piano ok e mo e mo che dici vicino e bo io ti frego vicino eh mo io ti frego basta non venire non venire vicino non venire non venire ci sono 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 ci Dai fammi capire che cosa c'è là dentro Qua ci siamo Ora che sappiamo che qua c'è qualcosa Basta Entrare Ok Cosa c'è qua dentro ora Una leva Non mi dire che queste erano le telecamere Non me lo dire No ma che figata Niente raga Perché non c'è niente Cos'è Dai no Buonanotte ragazzi Io ho finito qua ciao Buonanotte è stato un piacere E' aggare a giocare con Bendy Vaffanmagno Ok ragazzi io spero tantissimo che questo speciale Halloween Pieno di spaventi Oh mio dio ho i battiti di cuore Vi sia piaciuto Ragazzi io direi che ci possiamo vedere in un altro video Però prima vi vorrei chiedere di seguire la serie di Assassin's Creed Origins Che sto facendo sul canale Lasciate un like a questo video Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti